Buongiorno a tutti, oggi è mercoledì 9 settembre 2015, questa è la rassegna stampa Occhio ai giornali che come sempre comincia con il santo del giorno. Lo vediamo subito, oggi è San Pietro Claver, è stato sacerdote, il sole è sorto alle 6.39, tramonterà alle 19.31 minuti, sono 12 gradi, guardate la differenza tra qualche settimana fa e oggi, qualche settimana fa, qualche giorno fa, parlavamo quest'ora alle 7.30 del mattino di temperatura intorno ai 27-28 gradi addirittura, insomma siamo a 12, 12 gradi, insomma fa freschino, si dorme bene la sera perché è una bellezza, insomma la copertina fa sempre un piacere, insomma un po' come Linus. E il tempo, il tempo vedete nel sud dell'Italia, quella perturbazione annunciata dal satellite, queste nuvole che si ingigantiscono come battufoli di cotone che portano pioggia, tanta pioggia al sud. Mentre vedete qua nella nostra città, Fano, con la telecamera puntata sul tetto della nostra sede che punta sulla città di Fano, insomma è una giornata che si presenta comunque tutto sommato con qualche velatura, ma niente di più come tra l'altro ci conferma anche il sito della Protezione Civile delle Marche, che per oggi prevede cielo sereno poco nuvoloso, con transito di velature, temperature senza variazione di rilievo per la giornata di domani, giovedì 10 settembre, ancora cielo sereno e sole su tutta la costa, temperature stazionari, venti di brezza tesa da nord. Venerdì 11 vanno via anche quelle velature, quelle nuvole che ci saranno appunto oggi e domani e venerdì si preannuncia una giornata comunque soleggiata, con temperature in lieve aumento nei valori massimi, i venti saranno ancora da settentrione, il mare poco mosso. Il fine settimana invece sarà caratterizzato da tempo stabile e soleggiato, seguito poi da un aumento delle nuvole dovute a correnti sud-occidentali più instabili. Allora, stiamo per vivere gli ultimi giorni di vacanze, soprattutto per quello che riguarda gli studenti, poi lunedì si comincia e in questi giorni i genitori in particolare, quelli che hanno ancora la gestione dei propri figli anche dal punto di vista economico, quindi si devono preoccupare di pagare libri e quant'altro, c'è un problema, un problema è quello dei trasporti. Perché? Perché le tariffe sono state ritoccate in su e quindi per chi fa delle tratte come per esempio Pergola Fano, si ritrova a pagare un abbonamento per il proprio figlio, la propria figlia insomma per studenti che va dai 630 a 688 euro, 688 euro, una cifra esagerata per il mio. Però poi a stare a sentire Adria Bus per esempio, Londè dice se non ci fossero stati questi ritocchi avremmo perso 10 milioni di euro, insomma 10 milioni sulle spalle degli studenti, sulle spalle delle famiglie e non è poco. Nel tratto Pesero-Fano, siamo sul resto del Carlino, l'abbonamento annuale passerà da 316,8 euro a 345,6, ok? Uno studente dice il biglietto giornaliero Fano Urbino è passato da 3,50 euro a 3,85 euro e a questo punto vista la scomodità preferisco muovermi in macchina. E se questo ragionamento lo dovessero fare, oltre a questo studente giustamente arrabbiato, anche tanti altri, insomma ci ritroveremo noi da settembre tra poco con le strade completamente intasate dal traffico. Da Fano, il cantiere scuola RAGX, l'assessore Mascarin, stiamo intervenendo in sette edifici elementari e materne, sono pronte le barriere architettoniche. Si fa un restyling di scuole materne ed elementari, si ristrutturano dai piccoli lavori a quelli più impegnativi. Il comune di Fano è intervenuto o sta comunque intervenendo in almeno sette edifici scolastici. Il vescovo di Fano ha lo chalet per parlare di ecstasy. L'ecstasy sono quelle pasticchine, lo dico agli anziani che ci ascoltano, sono quelle pasticchine che i giovani prendono alla sera quando vanno a ballare in discoteca per sballarsi e non pensare ai problemi e quindi per divertirsi un po'. Sono delle pasticchine che però delle volte vengono fabbricate, vengono prodotte male, in gergo tagliate male e qualcuno, come ricorderete, ci ha lasciato purtroppo anche le penne. Il vescovo adesso, proprio anche dopo quello che è successo appunto durante quest'estate, tragica da questo punto di vista, ha deciso di incontrare i ragazzi dove? Nei luoghi frequentati dai ragazzi e quindi andrà allo chalet. L'appuntamento è venerdì 18 alle ore 19, quindi alle 7 di sera, con alcuni collaboratori appunto parlerà di questo problema. Incontrerà, forse ascolterà, probabilmente ascolterà anche il disagio. La sede staccata del Cecchi, torniamo a parlare invece adesso di istituti, istituti scolastici, parliamo dell'agrario. La preside crede nell'apertura al Codma di Fano, quindi una sede staccata, però servono nuovi spazi per creare questa sede staccata, questa succursale dell'istituto agrario Cecchi, bisogna ancora attendere. Si parla di Festival del Brodetto perché domani c'è il taglio del nastro, c'è il sole ad inaugurare questa nuova edizione, c'è la musica, un mare di pesce, ci sono gli ospiti, i ristoranti, il pala brodetto, tutto pronto per il taglio del nastro di questa tredicesima edizione del Festival internazionale del Brodetto e delle Zuppe di Pesce che si svolgerà domani alle ore 17 nel palco centrale che appunto è stato allestito al Lido. Poi invece dal Brodetto di Pesce alla cena di solidarietà organizzata dalla Rotary Club, una cena con la gluppa alla mensa di San Paterniano. Monbaroccio, Monbaroccio sarà salva se saprà farsi rispettare. Interviene Del Bene, sindaco di Monte Ciccardo e parla di questa fusione che il sindaco di Monbaroccio, Angelo Vichi, ha chiesto attraverso la Stava. Ecco, io ieri ho espresso un parere su questa cosa. Ovviamente non entro nel merito della fusione perché poi ogni sindaco, ma sul modus operandi, cioè su come è stata detta questa cosa, lanciata questa cosa insomma attraverso la stampa quando in realtà forse andava fatta un'operazione diversa, andavano avvisati i cittadini non stiamo parlando di una metropoli, stiamo parlando di un paese comunque bellissimo perché è un paese bellissimo ma che insomma con i quali si può, tra i quali i cittadini si può comunicare in maniera molto più semplice rispetto a una grande città. Poi ieri qualcuno mi diceva probabilmente il comune economicamente, il comune di Monbaroccio non è messo bene fare la fusione significa uscire dal patto di stabilità e quindi avere la possibilità di spendere soldi e quindi per tutto il tempo del mandato del sindaco e quindi fare lavori e quant'altro insomma un'opportunità che lo Stato dà per incentivare la fusione e quindi eliminare e sgrossare un po' tutti quei comuni che esistono in Italia, sono credo 8.000 quindi sono tantissimi ed ecco perché il sindaco Ricci ha detto sì facciamo questa fusione perché poi si sblocca il patto di stabilità anche al comune di Peso e di conseguenza avendo tanti milioni da poter spendere è chiaro che ecco perché ha detto ti do 4 milioni subito al sindaco di Monbaroccio come dire, quando li ha mai visti 4 milioni e mezzo, tu sindaco di Monbaroccio, mai quindi spingi per farla. Poi è chiaro che qui non si tratta di cancellare un nome anche Novilara se non ricordo male era comune, adesso è Novilara ma è una frazione del comune di Peso insomma, niente di più niente di meno, non è tutto questo scandalo insomma, ecco parlando ancora di paesi comunque piccoli e ripeto bellissimi. Sul Forcone invece è piena solidarietà di Matteo Ricci il sindaco di Pesaro ad Angelo Vichi, avanti tutta poi tra l'altro dice anche con l'unione che è un'altra cosa però rispetto alla fusione, qui bisogna stare attenti, unione e fusione ma non abbiamo tempo per spiegare le due cose. L'arcivescovo Coccia invece da Pesaro è prudente sull'accoglienza ai migranti, quella chiesta da Papa Francesco, si dice Coccia accogliete i migranti ma insomma con criterio, terremo conto delle diverse possibilità delle parrocchie Monsignor Galantino invece che è il segretario della CEI, eccolo qui, a Pesaro ci sarà il 18 Coccia invece lo vedete qua su quest'altra fotografia, sui profughi ci sarà presto un convegno un incontro della Diocesi di Pesaro, ci sarà anche Monsignor Galantino che è noto per la polemica con la Lega Nord e a proposito di profughi a Saltara, quindi sempre in provincia di Pesaro un profugo ha aggredito un'operatrice della cooperativa Labirinto, doveva partecipare ad un incontro ed è stato denunciato. Apriamo adesso il Corriere Adriatico, la pagina di Fano, vacanze concluse oggi torna a riunirsi il Consiglio Comunale, tra gli argomenti in discussione anche le contestate elezioni del nuovo direttivo del Circolo Arci. Poi c'è il Ministro Franceschini, il Ministro dei beni culturali che sarà a Fano, oltre che a Pesaro in altre città, comunque incontrerà i fanesi intorno alle 5 e mezzo del pomeriggio. A Franceschini cosa chiederemo? Di riportare la statua dell'Isippo. Il Vice Sindaco racconterà a Franceschini la storia della preziosa statua trafugata legalmente, che comunque dovrebbe già conoscere, insomma anche perché il Governo italiano si è occupato già della statua che in questo momento si trova, lo ricordo, a Malibu all'interno del Museo Ghetti. Il Governo italiano deve riaprire la trattativa diplomatica infatti con gli Stati Uniti. Poi da Fano, sempre dal Corriere, Pineta lasciata in uno stato indecente. Protestano i residenti di Ponte Metauro all'indomani del Palio. Cavalli e fuochi d'artificio hanno danneggiato tutto. Da Senigallia invece acquista una borsa, il Vucumpra, una volta che si è visto tra le mani 50 euro, al posto di darle il resto, a questa signora cosa ha fatto? Gli ha detto ciao ciao ed è fuggito via. Zona stadio, rivoluzione di viabilità e sosta, il capolineo dei Pullman sarà trasferito alla stazione, al campo Boario, 50 posti auto in più. E guardate invece quello che dovrebbe essere così, come dovrebbe diventare il nuovo Palace su Viale dei Partigiani a Pesaro, c'è questo rendering computerizzato di una delle facciate di questo nuovo Palace che diventerà un auditorium appunto che sorgerà dalle ceneri di questo Palace che ha fatto chissà quanti ricordi pesaresi dentro questa struttura. La Giunta approva il progetto preliminare, oltre 3 milioni per farne un salotto. Adesso andiamo sul messaggero per chiudere. La fiera di San Nicola, San Nicola Pesaro, il record superare 300 mila presenze, da domani sul lungomare pesarese torna la tradizionale fiera, durerà fino a domenica e non mancheranno le novità. Chiesta ospitalità per altri 350 migranti, nuovo bando per gestire ulteriore accoglienza di profughi che si aggiungono agli attuali 500 presenti in provincia. Il prefetto di Pesaro diceva aumentata la disponibilità delle strutture perché nella ripartizione ci sono state riservate altre quote. L'appello del Papa significa integrazione, tutta la comunità si sente interpellata. L'Arcidiocesi di Pesaro dice, terremo conto delle diversificate possibilità, la carita sdani è impegnata sul fronte dei disagi. Emergenza a Santa Marta, Tagliolini in regione, Tagliolini è il presidente della provincia di Pesaro, va in regione per incontrare e per parlare del nuovo istituto, il presidente tenta di accedere ai fondi della buona scuola, possibile la realizzazione dunque al campus. Tre donne, la cronaca, tre donne coinvolte in un incidente, ferite in modo grave una scooterista, è in coma farmacologico, il motociclista travolto a Tavuglia, dei vigili, appello al conducente dell'autocarro, stiamo parlando di un pauroso incidente ieri mattina in strada Borgeria a Pesaro, coinvolti due scooter e un'auto, tutte donne le conducenti. Nella carambola, ad avere la peggio, è stata una 45enne di Pesaro che sta a Villa San Martino. Chiudiamo con la pagina di Fano del messaggero, nuovo ISEE, più agevolazioni per le famiglie in difficoltà, redditometro, novità nel regolamento che quest'oggi sarà votato in consiglio. Mascarin, gli sconti potranno già partire con l'avvio della scuola, cambiano i criteri per contribuire alle spese dei servizi educativi. Poi sotto l'appello del sindaco Seri ad Adriabus, evitate rincari nel trasporto pubblico, ma a quanto pare c'è poco l'appello inascoltato, insomma l'aumento c'è. Porto, il dregaggio gioca ad anticipo, l'intervento partirà già lunedì prossimo in tempo per la fine del fermo Pesca e poi il ticket Fulvi-Fanesi scatena l'opposizione. Insomma, chi siederà al posto di Minardi sullo scranno della presidenza del Consiglio? La Fulvi, Rosetta Fulvi o il giovane Fanesi? Vedremo. Poi per chiudere, eccola qua, centriamo bene la fotografia, Mancini saluta, arriva Leuzzi, cambio al vertice della Guardia di Finanza di Fano. Dopo cinque anni il capitano Francesco Mancini lascia il comando della compagnia della Guardia di Finanza di Fano per ricoprire un nuovo incarico presso il nucleo di Polizia Tributare di Siena. Arriverà al suo posto il suo successore appunto il tenente Luigi Leuzzi, originario di Lecce, che ha iniziato la sua carriera nel corpo della Guardia di Finanza presso l'Accademia di Bergamo e al termine del corso quinquennale ha prestato servizio al secondo gruppo di Bologna e poi al nucleo di Polizia Tributaria di Firenze. Dunque ben arrivato anche al nuovo comandante della Guardia di Finanza di Fano. Noi ci fermiamo qui, grazie per averci seguito. Vi ricordo questa sera l'appuntamento con Occhio alla Notizia, come sempre, alle 20.30. Arrivederci.